Quando abbiamo cominciato nel 2003 il festival doveva essere un antipasto per il 2004 ed è stato un grande banchetto perché già il primo anno abbiamo avuto 136 mila visite e le code fuori dai laboratori. Adesso che siamo all'ottavo anno il risultato si è sempre più confermato e allargato, abbiamo superato i 200 mila accessi alle nostre mostre, laboratori, conferenze e quest'anno è un anno speciale perché celebriamo i 50 anni dell'invenzione del laser ed è una delle ricorrenze scientifiche con una mostra fantastica, conferenze sulle applicazioni del laser e poi siamo inseriti nella Biennale del Mediterraneo di cui siamo l'evento principale dalla mostra su come si è formato il Mediterraneo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia al Science Garden in cui abbiamo coinvolto tanti partner del bacino del Mediterraneo si camminerà in mezzo a isole della biodiversità. Il tema di quest'anno è orizzonti che appunto si inquantrava bene dentro la Biennale del Mediterraneo, per noi gli orizzonti sono uno spazio infinito e anche un po' un limite. Affrontiamo gli orizzonti sotto sei percorsi, come lo scorso anno abbiamo previsto dei percorsi tematici in modo che i nostri visitatori si possano orientare bene in un programma che è di più di 350 eventi, quindi ci sono dei fili conduttori, gli orizzonti dell'uomo, gli orizzonti della tecnologia, gli orizzonti dell'universo in modo che ci sia un inquadramento tematico che faciliti le visite. Altro elemento per facilitare le visite è quello dei poli fisici, abbiamo il polo della matematica, quello della biodiversità e quindi chi è interessato a degli specifici argomenti anche fisicamente riesce a collocarsi bene. Quest'anno il festival è a cavallo del Ponte dei Santi e a Genova le scuole tengono chiuso anche il martedì, quindi noi invitiamo le famiglie a rimanere qua durante il ponte, a godersi il festival, che è veramente un evento straordinario, molto divertente e devo dire anche molto qualificato all'estero. Stiamo per inaugurare la nuova edizione della Scuola di Formazione degli Animatori. Insegniamo ai nostri futuri ricercatori a spiegare la scienza perché questo è un dovere della democrazia ed è un valore aggiunto molto grande per il mondo della ricerca. Aspettiamo la città venerdì 29 ottobre alle due e mezza nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale perché quest'anno facciamo un'inaugurazione col botto. Abbiamo Nassim Taleb, l'autore del Cigno Nero che ci racconterà l'imprevedibilità di certi eventi e come questi si ripercuotono sulla vita di tutto il mondo. Seguirà Giacconi, il premio Nobel per la fisica, a cui verrà segnato il grifo d'oro dalla città di Genova. E alla sera uno spettacolo straordinario al Teatro Carlo Felice, scritto da Brian Greene, un grande fisico americano che ci ha copiati il Festival della Scienza a New York con musiche originali di Philip Glass. Quindi spero che tutta la città si faccia sentire come è riuscita a fare in tutti questi anni.